Ha ritrato un po' Presidente Gigi e c'è gran lotta per il comando con Podargo Jet che cerca di scavalcare il 3 di Obama De Ronchi ma a largo c'è Pedro E e lo schema è quello prevedibile Passa Pedro E sulla prima curva, 13-1 il lancio con grosso strappo, Pedro E è al comando Podargo è secondo, terza posizione c'è il 3 di Obama De Ronchi a precedere a distanza il 6 di Procione Jet e ancora più dietro portale 27-3 un po' scatenato l'allievo di VP, Pedro E che conduce comunque ovviamente indisturbato su Podargo Jet E i cavalli giungono ai 600 metri volati in 41-9, viene via dalle retrovie il numero 10 di Presidente Gigi anticipato però da Procione Jet e i cavalli ancora a grossa velocità raggiungono il paletto degli 800 in 57-4, un 15-4 di frazione e Presidente Gigi ora cerca di coprire portale E i cavalli giungono al chilometro, non riesce a correre per il momento portale, 1-12-1 il chilometro con Procione che ha scavalcato Obama De Ronchi Si libera il 10 di Presidente che va di dentro e ora a destra libera anche portale Si giunge sull'ultima curva con Pedro E al comando su Podargo a largo Procione di dentro Presidente e cerca lo spunto finale il 9 di portale Sta staccando Pedro E su numero 7 di Podargo e a largo di tutti portale E viene via Podargo Jet, scappa però Pedro E e Pedro E fin sul palo riesce a tenere a bada il 7 di Podargo Jet Per il terzo in linea il 10 di Presidente e il 9 di portale, 1-55-3 ancora un 43 a chiudere, una misura intorno all'1-12 E Pedro E da un capo all'altro viene a concludere nei confronti di Podargo Jet Mentre per il terzo dobbiamo rivedere perché giungono vicini il 10 di Presidente e il 10 di Presidente e il 10 di Presidente e il 10 di portale Che allarga leggermente sul numero 9 di portale Che allarga leggermente sul numero 1 Certamente funziona Cheltamente guard就可以 Che avere avocato Chellambo